Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Benvenuti nel parco della scuola materna dei pappagalli! Al direttore della scuola serve il vostro aiuto! Ascoltate! Oggi la campanella e il direttore non può suonare! Se per caso il drin drin la riesce ad ascoltare, con sé la vuole portare! Dovete richiamare la loro attenzione e fare tanto rumore! Così che ora i pappagalli capiranno e a scuola rientreranno! Certo che quest'anatroccola ha un gran bel vocione! Certo che quest'anatroccola ha un gran bel vocione! Devi stare attenta, D-Line! Perché non ci lascia passare? Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina coniglio! Come potrebbe ammirare i suoi occhiali da sole senza uno specchio? Grazie! Grazie! Grazie!